Mercoledì 5 di gennaio, data di partenza dei saldi invernali, a pochi giorni, a poche settimane dagli acquisti natalizi, parte dunque questa sessione ormai tradizionale dedicata agli acquisti a prezzi scontati. Parte in tutte le marche, parte qui a Pesaro, ci troviamo in via Branca ed una partenza importante per i saldi agevolata da una bella giornata che invita alla passeggiata, agli acquisti e noi di Rossini TV abbiamo fatto un giro tra i commercianti del centro storico di Pesaro per capire come viene valutato questo momento dei saldi invernali e come è stato il Natale che ci si è lasciati alle spalle. Abbiamo iniziato oggi anche se anche durante il periodo di Natale abbiamo fatto delle promozioni perché il periodo è quello che è purtroppo, siamo partiti diciamo oggi è il primo giorno abbastanza bene, abbiamo sconti fino al 50%, il nostro prodotto comunque è un prodotto abbastanza medio, basso come tipologia di prezzo però di qualità, quindi diciamo ci aspettiamo che comunque come è andato bene il Natale andrà bene anche questo periodo di saldi. Dovrebbe essere un momento di pieno incasso ma non è così, quest'anno è un po' in calo, è stato un Natale migliore rispetto all'anno scorso ma comunque con gli incassi inferiori rispetto alla pandemia. Affrontiamo questi saldi con il 50% sull'abbigliamento e il 30% sulla calzatura quindi un ottimo affare insomma da fare. Gli acquisti vanno tutelati sempre e noi abbiamo una nostra clientela storica che comunque viene curata anche in questo senso. Partiamo con i saldi ufficiali per tutti e con una percentuale molto calmierata come nostra abitudine quindi diciamo il giusto per diciamo favorire ulteriori acquisti di gennaio. È stato un buon Natale, sicuramente questo incremento della pandemia ha frenato sicuramente gli entusiasmi quindi questo è assolutamente accaduto. Però c'è sempre diciamo la voglia anche di acquistare qualcosa di nuovo per gratificarsi quindi è una cosa anche a livello proprio personale per uscire mentalmente da questo bailam mentale, mediatico relativo sempre comunque alla pandemia.